probabilmente a non tutti piacevano e adesso secondo alcuni si può dire addio alle lucciole e all'esplosione di biodiversità che in questi ultimi anni aveva caratterizzato gli spalti delle mura con il ritorno di fauna e fioriture che erano un lontano ricordo dopo lo sfalcio dei corridoi ecologici lungo il fossato delle mura l'opposizione è all'attacco e punta il dito contro l'amministrazione comunale colpevole a loro dire di non rispettare l'impegno della nostra città nella lotta ai cambiamenti climatici eravamo abituati all'erba che era rimasta appunto lungo gli spalti questo corridoio ecologico eravamo abituati al ritorno delle luccele eravamo abituati al ritorno delle orchidee che abbiamo rivisto sulle nostre mura una sperimentazione ambientale ed ecologica all'avanguardia una buona pratica concreta per combattere i cambiamenti climatici e la crisi ambientale che purtroppo non risparmia neppure il nostro territorio e l'amministrazione ha deciso purtroppo di annullare tutta questa sperimentazione secondo l'opposizione che ha chiesto la convocazione urgente della commissione lavori pubblici il disastro ambientale è compiuto e rispetto a prima a loro dire si sta creando un ambiente ideale per i focolai di zanzare i corridoi ecologici intorno alle mura avevano permesso il ripristino degli ecosistemi presenti lungo i fossati e arricchito la diversità di piante acquatiche palustri dove avevano trovato ricovero pesci anfibi e molti uccelli in edificazione grazie grazie